Ciao a tutti, faccio questo breve video per invitarvi ad iscrivervi sul mio canale YouTube perché presto pubblicherò una serie di video in cui vi mostrerò tutto quello che c'è dietro alla produzione di queste piantine. Se vi interessa l'argomento iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. Ciao, ci vediamo al prossimo video! Ciao!